La sala consigliere del Comune di Leff ha ospitato la seconda delle due assemblee dedicata alla spiegazione al pubblico della valutazione ambientale strategica che precede l'adozione del nuovo piano di governo del territorio. Il documento verrà con ogni probabilità portato in Consiglio Comunale entro la fine di maggio. Fondamentalmente il confronto che c'è stato all'interno del gruppo di lavoro che fondamentalmente è costituito da persone indicate dall'amministrazione comunale, tecnici del territorio ma anche chiaramente politici nominati dalla maggioranza e dalla minoranza è stato quello di conservare il territorio già molto edificato negli anni soprattutto del primo dopoguerra e fino agli anni 70-80 e di conseguenza guardando così la primimetria del territorio di Leff ma chiunque potrebbe vederlo osservando dalle montagne che sono qua intorno quello che è subito stato un elemento di condivisione è stata la necessità di tutelare il territorio. C'è poco territorio edificabile, c'è molto territorio che è stato edificato quindi fondamentalmente sugli ambiti ancora edificabili ci sono delle previsioni di ampliamento chiaramente soprattutto eventualmente residenziale ma in modo molto contenuto. Per quanto riguarda invece le sette aree di smesse che sono parte del territorio del Comune di Leffe si prevede chiaramente una possibile trasformazione con una funzione mista appunto indicativamente potrebbe essere del 50% residenziale e l'altro 50% sempre a carattere produttivo o comunque misto di funzioni commerciali e via dicendo. Di conseguenza il lavoro che è stato fatto è stato quello poi di andare a definire tutte quelle zone di completamento ad esempio fra due residenze già costruite appunto e un'area che potrebbe essere nell'intermezzo si è data la possibilità, si darà la possibilità la proposta è questa di poter avere qualche zona appunto ancora di completamento che possa essere edificata. All'interno del PGT verrà inoltre inserito il censimento dell'area collinare del paese di Leffe e delle schede relative agli edifici attualmente presenti nella zona. L'obiettivo è quello di mantenere intatto il volume delle aree verdi fatta eccezione per alcune piccole concessioni regolamentate comunque all'interno del documento.